E' stata scelta Arezzo come location per il campionato italiano Le Garceri Medievali che si è svolto domenica 25 settembre. Una manifestazione che ha richiamato in città un gran numero di appassionati provenienti da ogni parte d'Italia che si sono sfidati in una gara di tiro con l'arco storico. Di Arezzo si presta veramente come città ma anche come organizzazione. I ragazzi qui di Arezzo sono stati veramente bravi perché organizzare un campionato italiano assoluto non è facile. Non è facile perché sono tante le città di tutta l'Italia e sono tra i migliori arcieri a livello di arco storico. Quindi veramente è una grossa fatica considerando poi che al mattino tra l'altro si è svolto anche il torneo nazionale delle Garceri Medievali che organizza il tutto. Lei pensa che possa essere una sede, una destinazione anche per qualcosa di internazionale? Ah ma sicuramente. Noi siamo anche come le Garceri Medievali organizziamo anche il campionato europeo ogni due anni. Se lo chiedessero non avrei niente in contrario ma me lo devono chiedere però.